Tutti ai posti di combattimento. In attesa di istruzioni. Forze nemiche all'orizzonte. I need your support. Teammate, I need your support. I need your support. Corazzata nemica individuata. Generatore di fumo avviato. I need your support. I need your support. Allarme incendio. Siluri a poppa. Corazzata nemica individuata. Porta aerei nemica individuata. Siluri dritti di poppa. Siluri a poppa. Siluri a poppa. Siluri a poppa. Inso. Siluri a commicking. Siluri a poppa. Un incrociatore nemico individuato Allarme incendio Abbiamo distrutto un incrociatore nemico Caccia in volo Problema risolto signore Allarme incendio Generatore di fumo avviato La nostra squadra è in vantaggio Abbiamo affondato una porta aerea in nemica La nostra vittoria è vicina Rilasciata cortina fumogena 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 La nostra vittoria è vicina Rilasciata cortina fumogena 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 Grazie a tutti 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 Abbiamo distrutto un incrociatore nemico Grazie a tutti Siluri dritti di prua Siluri a dritta Generatore di fumo avviato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti